Noi abbiamo un Presidente che sa usare parole molto ferme, parole molto sagge. Meno male che abbiamo un presidio di questo genere. Io ho condiviso profondamente le affermazioni che ha fatto il Presidente della Repubblica e credo che tutti quanti devono rispettare la sua persona, le sue parole e anche l'Istituto che rappresenta.